cancellabile e molto spesso l'accumulo di fatti traumatici può interferire pesantemente con le funzioni della vita quotidiana. Loro hanno la stessa paura che avevano le persone che in trincea non si situano più di un bombardamento, non c'è stata mai la possibilità con la psicanalisi di risolvere i casi di questo genere. La paura ritorna e ritorna nei sogni. La stessa cosa è per queste persone, tenendo presente che alcuni di loro possono avere incontri ravvicinati più volte in un anno e che quindi ogni volta la paura viene rinnovata. È chiaro che loro hanno delle fobie, possono avere delle fobie giustificate dal fatto che l'impressione è che queste forze aliene facciano degli esperimenti su di loro, quindi avere una paura anormale del dentista, tutti abbiamo paura del dentista, però ci sono delle persone che hanno degli aspetti fobici molto più accentuati degli altri. Oppure possono avere paura di cose apparentemente innocue come il girare di una ventola, ma questo probabilmente ha a che fare con i fenomeni con cui sono a contatto. Una delle cose che vengono più frequentemente raccontate, per esempio, è che quando gli alieni vengono a prenderli e riescono in qualche maniera a calmare la loro paura, perché hanno queste facoltà ipnotiche, riescono a stabilire una divisione fra la paura e le sensazioni che le persone hanno e li trasportano al di fuori della loro casa, al di fuori della loro camera da letto. Loro hanno questa possibilità di passare attraverso la materia che sembra una cosa assolutamente incredibile, ma il fatto è che quando gli si consente di rivivere questo, ci sono diverse tecniche che possono farlo e che naturalmente non possono venire applicate comunque ogni volta che la persona viene per le prime volte a farsi vedere. Loro riesperimentano questa sensazione, questa cosa che gli accade, che è quella di sentire una fortissima vibrazione che parte dal plesso solare e che piano piano rende invisibili le loro gambe e le loro braccia e loro poi si sentono trasportare verso un altro posto. Allora questa sensazione di vedersi sparire è un altro degli effetti di shock, è un altro effetto traumatico molto forte che loro hanno. E traumi di questo genere sono traumi talmente potenti e talmente insoliti che a un certo punto arrivano a interferire con la loro vita. La ragione per cui sono così interessato a questo fenomeno è proprio a causa del mio caso personale. La mia esperienza con i rapimenti è iniziata quando avevo solo tre anni o giù di lì. Molte storie di rapimenti iniziano quando si è ancora molto giovani. Molte persone vengono da me in età adulta e mi dicono che è successo loro qualcosa. Magari hanno visto della gente in televisione che raccontava la propria esperienza e hanno incontrato altre persone alle conferenze che ne parlavano. Anche loro vogliono raccontare da loro. Per quanto mi riguarda, ritengo la mia esperienza molto personale e non vado in giro a raccontarla. Non vado in televisione in giro per il mondo a dire «Ehi, sono stato rapito dagli alieni». Due anni fa ero in televisione negli Stati Uniti come ospite di un programma e mi venne fatta la domanda «Perché sei così interessato al fenomeno UFO?». E nella spiegazione sono sceso in dettagli parlando della mia esperienza come rapito. In breve c'era mia madre che stava guardando quel programma in tv ed esclamò «Oh mio Dio!», ha detto di essere stato rapito. All'epoca mia madre aveva 74 anni ed era la prima volta che sentiva parlare di quella storia. Ma sarebbero tanti i quesiti ai quali rispondere per i quali forse oggi noi ancora una risposta non ce l'abbiamo. Quindi il viaggio nel mistero continua. Speriamo fino ad ora di aver svelato magari qualche mistero ed essere giunti magari un po' più vicino a quello che può essere la verità. Resta a voi da scoprire se gli alieni esistono veramente oppure no. Chissà mai in una sera con un cielo stellato di vedere qualcuno che da lassù ci saluta. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.